Don Vittorio Serafini, oggi 4 ottobre si festeggia San Francesco, patrono d'Italia. Qual è il messaggio, il modello di vita di questo santo? Eh, le possiamo prendere proprio da quello che il Papa attuale ha detto proprio di San Francesco, perché ha detto che è per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. Sono parole che definiscono in maniera completa quella che è la figura. Di San Francesco, San Francesco ha colpito tantissimo perché ha voluto proprio personificare, personalizzare la figura di Cristo, la presenza di Cristo e poi manifestandola attraverso queste parole che abbiamo letto, la pace, la gioia, la felicità della vita. Una figura importante quindi per questa religione e tra l'altro il Papa Bergoglio ha scelto proprio il nome di Francesco. Eh sì, il Papa ha scelto questo nome proprio come il suo programma, come un cui si racchiude tutta la sua esperienza di pastore e con questa novità che poi è stato eletto Papa, quindi anche con tutta la responsabilità che lui ha nei confronti della Chiesa che è presente in tutto il mondo. Quindi è veramente una figura, San Francesco, che raccoglie tutta quanta l'esperienza che Gesù è venuto a iniziare, a realizzare e con questi amici, con gli apostoli, che continua ancora a vivere e a comunicare al mondo intero. Possiamo dire quindi che in un momento come quello che stiamo vivendo, una figura come Francesco, sia il Santo che il Papa, ce n'è proprio bisogno? Eh sì, perché San Francesco è già un uomo che è vissuto e che ha completato la sua vita donandola tutta intera al Signore, a Gesù. E questo Papa, sulla scia di questo Santo, cerca di donare la sua vita a Gesù coinvolgendo con il suo modo, con la sua parola, con la sua convinzione, con la sua simpatia più gente possibile, a cominciare dai giovani, dai più lontani, da quelli che sono in una situazione di disagio, da quelli che sono impegnati nel mondo della cultura o da quelli che sono impegnati nel mondo della politica. Veniamo invece con i festeggiamenti di San Francesco a Tolentino. Tra le tante iniziative ce ne sono due centrali, una del pellegrinaggio sui luoghi di San Francesco e un'altra che riguarda l'enciclica. L'enciclica del Papa, l'Humen Fidei, abbiamo già iniziato con il primo incontro che è avvenuto già il giorno martedì 1 ottobre, poi ci sarà il giorno 8 e 15, sempre di ottobre, perché insieme vogliamo studiare come alunni di questo padre, di questo maestro che è il Papa Francesco, come indicazioni che ci dà lui e come anche impegno per continuare quella che è stata l'esperienza eccezionale di Gesù. Per quanto riguarda invece il pellegrinaggio? Il pellegrinaggio lo faremo il domenica 13 ottobre, andremo a visitare i luoghi tipici della figura di San Francesco.